Loredana Bertè a Sanremo 2024 vede la classifica e spiazza gli italiani. Lei ha... Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Loredana Bertè ha fatto il suo attesissimo ritorno al Festival di Sanremo, incendiando il palco con il suo nuovo brano che ha già conquistato la vetta della classifica provvisoria della prima serata. Ma cosa si cela dietro questo trionfo? Scopriamo insieme le reazioni della provocatoria cantante e le sue parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Loredana Bertè è tornata sul palco del Teatro di Sanremo 2024 con una performance che ha lasciato il pubblico senza fiato. L'icona italiana, sempre nota per la sua ribellione e anticonformismo, ha fatto letteralmente impazzire gli spettatori del Festival con il suo nuovo brano dal titolo Pazza. La diretta è stata un susseguirsi di emozioni fino a tardanotte, con sorprese ad ogni angolo. Dopo le esibizioni di tutti e trenta i cantanti in gara, è stato finalmente annunciato il verdetto provvisorio, con Loredana Bertè in testa alla classifica grazie al suo brano. Quale sarà stata la sua reazione? Appena terminata la diretta, la cantante non ha perso tempo a ringraziare i giornalisti presenti, che hanno contribuito a rendere possibile questo sogno. Grazie a tutta la stampa che ha reso questo traguardo possibile. Sono ancora in credula, ma questo è solo l'inizio, ha dichiarato Loredana, lasciando tutti con un grande punto interrogativo sulla bocca.